Ok Via Inauguro questa nuova serie di interviste a insomma tutto amici mi viene da dire come in questo caso ma soprattutto musicisti che considero fighi e parto da questo non mi piace mai chiamarli progetti gruppi ma questo gruppo questo suo insieme di persone duo in questo caso che suona Gatti Alati quindi chi è Gatti di voi due e chi è Alati mostratevi Ciao io sono Ema Emanuele Gatti e l'altro qui con me sono Cristiano Alati Ciao in forma di mucca oggi in forma di mucca sì Allora facilissimo nel vostro caso chiamare una band con questo nome che a me piace tantissimo mi fa sognare però è molto facile perché è la somma dei vostri cognomi è stato semplice ma ci abbiamo messo un po' alla fine ne avevamo pensati altri nomi poi Emanuele giusto diceva ma scusa ma usiamo i nostri nomi veri quindi è perfetto direi in questo caso e anche mi viene da dire rappresenta molto quello che fate e che chiederei a voi perché nessuno meglio di voi può raccontarlo scegliete io direi che può parlare Cristian visto che è stato lui a contattarmi per primo nel 2013 credo giusto Cristian sì sì esatto parte da una mia idea volevo creare un duo per fare musica un po' diciamo particolare nel senso una cosa che non avevo mai fatto usando molta elettronica campionamenti suoni e molto processamento elettronico però con un cantato io avevo praticamente già conosciuto Ema avevo fatto il master dei morning tele finì il suo progetto mi era piaciuto parecchio aveva quell'arena un po' sperimentale giocosa un po' anche curiosa che mi era piaciuta molto quindi l'ho contattato e da lì siamo partiti abbiamo fatto un po' di esperimenti io all'inizio creavo un po' di basi le davo a lui lui le archiva mi rimandava le cose un progetto molto pre-pandemia ma già tecnologico nel senso che noi ci vedevamo poco ci scambiavamo falgia all'epoca era tutto era tutto così è vero esatto poi per noi il modo di lavorare nel lockdown non è cambiato perché già lo facevamo prima fondamentalmente giusto è anche molto congeniale a volte fare così risparmi anche tempo e magari anche sì non siamo siamo lontanissimi non siamo neanche vicinissimi nel senso io sto a Milano e Emanuele stappa via e alla fine ci veniva semplice fare un'attività in questa maniera quindi con scambio di file scambio di idee chat infinite per confrontarci su vari aspetti quasi per gioco quindi abbiamo iniziato a comporre e pian piano sono venute delle brani che ci interessavano ci piacevano su cui poi Emanuele ha scritto dei testi ha cantato e questa cosa ci coinvolgeva allora abbiamo deciso di continuare abbiamo insomma siamo arrivati al secondo disco ottimo Emanuele vuoi raccontarlo in una frase questo disco proprio secca questo disco in una frase in una frase difficile però però ci posso provare è un disco matto un disco sì matto direi un disco ce l'hai anche tu mucca una frase per questo disco qua ma mi scoccia chiamarti mucca signor devo cambiare no 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 perché mucco mucco non mi suonava bene però lo cambio dai vediamo vediamo cosa tranquillo una frase secca per questo torno alla volta guarda rispetto al magari al periodo in cui è stato fatto lo chiamerei pandemico un po' brutta però ci può stare nel senso che è diverso da quello precedente forse un po' un po' più tra virgolette io lo dico pop ma tra molte virgolette nel senso che noi eravamo chiusi lì è venuta una roba abbastanza strana perché per certi versi è più caustrofobico per altri versi è meno meno dance del primo è più canzone nel senso più melodico però racchiude secondo me sempre l'idea di chiuso del fatto che stavamo chiusi costretti a fare delle cose quindi cercavamo una via d'uscita in queste composizioni fondamentalmente parliamo dell'aspetto live nel senso perché la città in cui viviamo io e te Christian e anche Emma perché non è lontano è cambiata tantissimo tanti posti sono chiusi tante persone che organizzano i concerti non lo fanno più chi suona a volte non sa magari come esprimersi anche il sito magari lo seguono anche tante persone giovani che hanno aspirazioni per fare cose in questo momento storico della città della musica live italiana cosa sentite di dire a chi suona come voi e che approccio avere anche per voi con questo disco qua nella parte live che è la parte che vi avvicina più a chi vi ascolta perché credo sia così quindi cosa consigliereste ai ragazzi e qual è secondo voi la fotografia di una Milano di oggi per me è una tragedia lo dico senza senza mezzi termini catastrofico Christian però va bene sì ma perché non c'è a parte i locali come dicevi tu che hanno chiuso tantissimi posti con cui noi siamo cresciuti cioè io mi ricordo a Milano tanti anni fa che vedevo ogni sera c'era un concerto diverso c'era un programmazione infinite c'era modo di ascoltare di tutto dagli emergenti agli stranieri ai big ai meno big alle cose più underground era meraviglioso cioè avevi un'offerta pazzesca sempre e anche se tu eri alle prime armi e ti volevi proporre avevi quasi un avevi l'opportunità e anche un rispetto per quello che facevi oggi è tutto completamente cambiato è completamente diverso ci sono pochissimi spazi le programmazioni sono non sono varie come una volta è molto difficile inserirsi io non so come fanno i nuovi i giovani proprio le nuove nuove leve a te lo dico io a poter proporsi sì dimmelo lo fanno su tiktok lo fanno su instagram vedi ormai non sono più niente ma sì ma perché poi le condizioni non ci sono neanche poi vabbè adesso Emanuele chiaramente ti potrà confermare noi sui live siamo praticamente fermi o quasi nel senso abbiamo fatto qualcosa ma non ci sono le opportunità minime per poter gestire dei live come si deve è un gran peccato ad oggi sì lo è lo è perché ho sentito i brani e vi devo dire al di là del fatto che è mio amico da anni però a lui potrei comunque dire onestamente se non mi piace devo dirti che comunque sono sorpreso perché già il primo disco mi ha sorpreso ovviamente la matrice è quella a volte quando sento il cantato italiano in italiano con il suo stile ha una matrice chiara delle connotazioni che comunque sono definite nella tradizione della musica italiana e penso a Battisti ma è il primo che ti dico un certo Battisti e dopodiché c'è un sacco di cose che sento che dico wow è un insieme di tanta musica bella per cui al di là di farvi gratuitamente i miei complimenti grazie quello ti ringraziamo molto no figurati io mi auguro è un fatto che ti piace per noi è bellissimo anche solo per il fatto che l'hai ascoltato è vero che non è scontato ragazzi ma mi auguro che comunque lo possano ascoltare in tanti quindi che ne so nella tragedia nel deserto delle proposte culturali magari che ci immaginiamo avere magari un oasio ogni tanto che comunque esiste perché vi confermo che ci sono posti come l'Arcibellezza Magnolia continua a fare le sue cose Santeria continua a fare le sue cose però è anche vero che come dice Christian è la metà esattamente la metà di quello che c'era dieci anni fa quando mi gasavo tutte le sere andare ai concerti adesso non lo sono più così gasato ma ok mi auguro invece che la vostra musica possa andarci e se ci va come ci va Emma parla tu o Christian parla tu I don't know ditemi come come figuro live beh allora noi abbiamo fatto una serie di live in passato in cui c'era anche una componente oltre a esserci noi due insomma sul palco che comunque siamo molto belli da vedere c'era anche un un dei visual c'erano dei visual dedicati che che accompagnavano insomma la la l'esecuzione la performance quindi questo questo è un aspetto su cui abbiamo sempre lavorato e appunto ci piacerebbe quindi l'aspetto l'aspetto visivo e su cui ci piacerebbe lavorare anche su questo disco quindi vi serve l'oscurità ci piace ci piace suonare nell'oscurità in mezzo alle luci e poi non ha magari non ha nulla a che vedere con il classico no con certo da clubbing mi viene da dire da club ma è più una una performance visiva sonora insomma più 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 show di quel tipo quasi c'è tanta alienazione nella cosa che ascolto noi stesso siamo alienati ci alieniamo no bene giusto anche io ma la musica è di per sé a volte bella e alienante no perché ti porta da un'altra parte quindi è figo secondo me sarebbe figo vedervi in qualche posto in qualche museo per esempio dove ci sono le luci giuste dove le persone sono attente dove la musica viene percepita come un'opera d'arte come si guarda un quadro cazzo non c'è a Milano è poche cose è difficile noi abbiamo fatto dei concerti nei posti particolari il primissimo concerto che abbiamo fatto era praticamente nel seminterrato di un grande negozio di abbigliamento è stata una roba pazzesca era gigantesco tra l'altro ero un mio amico ci lavorava lì esiste ancora? ma sai che sono venuto forse è vero? era vicino sì sì è rivenuto è rivenuto bello sì me lo ricordo sì sì è quella particolare insomma poi abbiamo suonato al base che è un altro posto bello cioè ci sono dei posti belli però insomma è difficile pure replicare le cose e vedere un po' come va anche perché poi l'attenzione delle persone è relativa no ma sai io credo che ogni credo che sti suoni manifestarsi quindi ok poi arriva chi arriva però è anche importante che ci siano dei veicoli dei veicoli giusti quindi come dicevi tu una bella situazione che ti mette anche a tuo agio quando suoni questo è importante ma dalla tua esperienza Cristian che sono non ti voglio dar del vecchio ma sono tanti anni quali sono le tre cose più fighe che a cui che ti mancherebbe una cosa dimmene uno o due che ti mancherebbe di Milano cioè se fossi e avessi tu la bacchetta magica per cambiare questa città cosa faresti veramente hai poter sì vabbè ma che c'è su tante cose alla fine insomma Milano cioè Milano proprio ma come dici proprio relativamente ai live dici sì esatto ma sai non vorrei dire i live non è un problema soltanto dei locali che chiudono perché se i locali chiudono purtroppo un motivo c'è non è che chiudono così perché l'attenzione probabilmente delle nuove generazioni del pubblico verso determinati tipi di concerti sta scemando cioè la gente va sempre meno a vedere è curiosa di vedere novità o diciamo esperienze gruppi più piccoli del mainstream di quelli famosi e quindi sta di fatto che andando meno gente cioè al locale non ne può fregare di meno poi di organizzare concerti gli arrivano due persone l'affitto lo deve pagare il primo il secondo il terzo dopo poi non ce l'hanno più quindi è tutto un meccanismo che è veramente difficile da da riaccendere cioè non c'è più quell'entusiasma c'era una volta cambia tutto cambiano le mode cambiano i generi musicali e quindi sai uno deve pure adattarsi al mondo che cambia non c'è non c'è non c'è continuate a fare musica quindi siete comunque dei guerrieri in qualche modo continuiamo e continuerebbe imperterri non possiamo farne a meno poi ci sono poi dall'altro qual è l'opportunità che però una volta non c'era è la distribuzione della musica adesso con piattaforme di streaming o il web internet e tutto cioè la tua musica fondamentalmente ovunque anche se non stampiamo vinili cd o roba del genere abbiamo l'opportunità di fare sentire il nostro lavoro a chiunque chiunque ha un minimo interesse abbia un minimo interesse può andare su qualunque piattaforma a trovarci ascoltare se gli piace siamo contenti se non gli piace contenti uguali ognuno ha i suoi gusti questo è l'altro lato della medaglia a me io sono molto affascinato da come diciamo vi definirei artigiani perché così mi sentirei in qualche modo al vostro posto e poi se il prodotto è buono se tu sai fare bene il falegname nella tua via le signore ti chiamano ti cercano ti allarghi fai quello che si dice business però fai il tuo mestiere quindi il musicista adesso nel 2024 è ha a che fare con una competizione incredibile cioè ogni giorno il consumo è schizofrenico se tu hai un'idea e hai un album e lo vuoi esprimere nessuno ti dà più di 10 15 20 secondi di attenzione questo può essere frustrante no? in qualche modo quindi assolutamente è proprio l'attenzione che manca quello che dici tu esatto ma per fare un disco come il vostro che ha un'idea invece un concetto e come diciamo lottate visto che li ho definiti guerrieri in qualche modo come cosa va come vi armate per oppure semplicemente lo mettiamo lì e capiamo perché tutto quello che arriva raccogliamo non so è un approccio no? io come cosa vi aspettate cosa dalle vostre cose artistiche in generale anche non solo perché comunque so che siete attivi su tanti fronti è anche bello perché chi ci ascolta magari tra ispirazione da persone che sono in giro suonare da tanti anni quindi cosa cosa vi aspettate dal 2024 2025 come è una dondona eh ma vai tu ovviamente le domande più difficili lascia me ok allora nel mio caso perché secondo me poi si tratta sì è vero si tratta di intenti che possono essere comuni in una band ma anche anche no anche possono essere anche individuali in qualche modo nel mio caso non mi sento non sento l'esigenza di dovermi armare ma più che altro lo faccio proprio per una per una soddisfazione personale diciamo in qualche modo quindi in qualche il fatto stesso di 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 creare e comporre una 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 canzone dal mio punto di vista è una una realizzazione una piccola realizzazione quindi poi dove vada cioè in qualche modo questa canzone magari prende vita perché lo ascoltano in due persone o anche solo una persona e nel momento in cui viene ascoltata prende vita e quando e genera può generare una un'emozione un sentimento si spera che generi qualcosa esattamente come lo genera poi al in me no in chi la fa poi alla fine per prima per prima cosa quindi quindi l'arma sono l'arma sono le canzoni fondamentalmente i sentimenti e sì le canzoni e i sentimenti che possono scaturire da queste anche i non sentimenti e e e quindi e quindi quindi l'arma sono le canzoni cioè più ne crei più pallottole hai più certo diciamo che per chi parla la cosa più brutta che ti può accadere non è essere ascoltato esatto esatto è esattamente proprio questo esatto l'internet diciamo che ormai abbiamo capito che mettiamo lì una cosa e e va bene e magari ma il tempo e poi il tempo in tutto questo è relativo cioè tu le tu le tu le lasci le lasci andare queste queste idee queste canzoni queste piccole opere e poi magari no nell'arco di anni secoli qualcuno le ascolta farvi capire che non ci sia non ci sia una grande tattica ma un grande cuore esatto doppiamente felice di avervi qua e doppiamente contento se qualcuno ovviamente può scoprire la vostra musica che è il vostro disco ricordate il titolo è Gatti Alati 2 2 scritto e la copertina è questa che abbiamo alle nostre spalle io io e Cristian la volpe e il messicano con nella siete bellissimi vi ringrazio di cuore del vostro tempo e spero di vedervi su un palco quanto prima grazie grazie a te buona giornata ciao altrettanto ciao 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 ciao